Anche oggi, in questa mattinata, partiamo dal grande titolo, ma arriviamo al titolo del convegno di questa mattinata, coesione e competizione, è come verbo, non come congiunzione, che rigiama i valori fondamentali del Paese. Nel primo articolo della nostra Costituzione, un'Italia repubblica democratica fondata sul lavoro, il lavoro per i padri costituenti era un elemento di coesione che diventa competizione. Quindi una novità importante che richiama il senso di comunità, il come immaginare una società aperta ed inclusiva, il valore di una società che include, l'idea che non basta solo misurare il PIL, che è un elemento determinante, ma è la causa, ma occorre anche valutare le diseguaglianze in una società aperta ed inclusiva. E quindi la crescita diventa uno strumento, non più un fine. Questo ci mette insieme, molti di noi, in una dimensione di riflessione come ogni anno grazie a Simbola che ci dà un'idea di società del futuro su cui si dibatte.